che nelle favole noi non abbiamo la necessità che il nostro bambino diventi più buono o che il nostro bambino manifesti solo sentimenti positivi, anzi. I sentimenti negativi di invidia, di rabbia, di aggressività trovano proprio nelle favole il loro spazio migliore. Avete fatto caso che nelle favole non ci sono le mamme, ci sono sempre le matrigne. Questo è perché il bambino in una favola ha modo di dare spazio all'aggressività anche verso le persone che ama di più, come le mamme. Ma se l'aggressività è difficile esprimerla verso una mamma, può trovare il suo spazio verso una matrigna.